La grande palla a mano azzurra a Siracusa. La città siciliana si prepara infatti ad essere scenario di due prestigiosi appuntamenti che vedranno impegnate le nazionali italiane. Il 2 novembre la gara Italia-Georgia valida per il gruppo C di qualificazione ai campionati europei 2020 maschili e poi nel weekend del 25, 26 e 27 novembre le sfide che opporranno Italia, Portogallo e Israele valide invece per il gruppo 4 di qualificazione ai campionati mondiali 2017 femminili. Il pallalobello tornerà così a vestirsi d'azzurro a distanza di 7 anni dal match degli uomini contro la Bosnia-Herzegovina, era il 2009, mentre la femminile dopo 13 anni dalle qualificazioni europee del 2003 che avevano visto coinvolte Macedonia e Islanda e anche in quell'occasione il Portogallo. Per ciò che riguarda le qualificazioni agli europei 2020 maschili l'Italia parte dal gruppo 3, lo fa in casa contro la Georgia, fischio d'inizio il 2 novembre alle 17.30 per poi replicale a Tbilisi il 6 novembre seguente. L'altra avversaria del Girone in Lussemburgo da affrontare in doppio confronto a gennaio, passaggio al secondo turno per la sola prima classificata di ogni raggruppamento. Tutte le squadre che invece non superano questa prima fase prendono parte all'IHF Trophy nel giugno 2017. Per quanto concerne invece le qualificazioni ai mondiali 2017 femminili, le gare del gruppo 4 si disputano con la formula del torneo unico l'Italia. Ha dunque la possibilità di giocarsi la qualificazione davanti al suo pubblico nel weekend che va dal 25 al 27 novembre. Le azzurre saranno opposte come detto a Portogallo e Israele con la sola prima classificata alla termine della tre giorni che si qualifica alla fase successiva dei playoff. Il passaggio del turno si traduce nella possibilità di giocarsi l'accesso dunque ai mondiali tramite i playoff di qualificazione in calendario poi nei periodi del 9, 11 e 13, 15 giugno 2017. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS